le ho depositate adesso ah si ce ne voglio mettere ce ne abbiamo 53 la prima cassa grazie ciccio ah senti depositiamo i soldi in una cassa così ogni volta che usciamo non andiamo a perverarle il mio make up è differente stavi dicendo stavo dicendo che ci vogliono 10 ragnatele in questa qui sto fregno qui ne ho 168 non me le fa fare allora consigliati da un'altra grafting station per farla che è l'oom no era quella che ti avevo chiesto non questa niente non fa niente abbiamo soltanto buttato tutto il ferro che c'avevamo no non fa niente muori muori sfatocco 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 tu esci e ci metti del ferro e vado a prendere pure il caffè bravo il caffè davvero sarebbe una cosa credita qui adesso e quando lo dico non mi riferisco alla mia ragazza che sta sul letto insieme al gatto capito ragazza che sta sul letto è che vorrei davvero un caffè no non so chi ne ha le spiegi accendiamoci l'accendisi cari salutami valentino accendiamo l'accendino acceso ahahah l'accendi sicari l'accendi sicari cioè bruciano stavo per fare una battuta però la farò solo ed esclusivamente quando non saremo in registrazione perché ho mangiato un fungo quando non ne avevo bisogno no sono un cretino un tossico ok ah se tu che stai martellando come ci fossero domani yes dove sta sul cazzo sto tizio e Claudia insomma che è quello strumento che devo fare al posto di quello che mi hai fatto fare a buffo allora aspetta dove è ah eccolo eh loom però obiettivamente non so cosa sia guarda allora io mi ricordo assolutamente che era proprio davvero identico e comunque questo strumento ad un telaio sai il telaio quello che tela la tela si stai telando si si famoso telarsi considera lo devi fare con la crafting station che è la sawmill che è quella che hai già fatto ok e ti servono 12 legni 12 legni che oh chi è arrivato fermi tutti è arrivato un png dov'è eh vedi sotto c'è scritto cacca cacca tira in ah è la cosa è la l'infermiera la porno infermiera la porno infermiera dov'è la io non la vedo aspetta dov'è la dovrebbe stare qua non c'è è morta è morta è morta è morta è morta una porno infermiera la porno infermiera la porno infermiera questa è la vera un google fx no 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 anche perché tipo mi riduce lo schermo o lo tipo qua di più di più ma si sente quando sbuffo la sigaretta un pochino un pochino tanto e adesso dai lo sbuffo fado fino a adesso no ma freddo ah ok perfetto adesso sembrava vagamente voluto aspetta fallo un attimo più forte no non lo sento ah ok perfetto è incredibile fantastico questo microfono è isolato sai monzo c'è dell'altro legno per te no chiaramente dai dammelo 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 sfatocca 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 guarda ne ho solo ne ho solo 233 me ne daresti 232 ok ok come faccio come prima più di prima salita guarda facciamo facciamo così te li piazzo tutti e tutte li togli assolutamente no aspetta che piazzo un nuke tieni ah a legno si allora vediamo se Claudia ha detto il giusto Claudia non dice mai il giusto vado su quella cazzata che mi ha fatto fare prima no però se me l'ha fatta fare era giusto che io la facessi posso uh figata mega figata figatissima ma comunque quella ti serve a forza perché si 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 c'era solo delle ragioni sono d'accordo con te a metà con quello che hai detto sono completamente d'accordo a metà con il mister guarda che figata posso fare ecco qua un bel manichino ah decedi merda decedi desisti ok posso fare un telaio qui serve un'altra stanza Simone sotto si è molto più larga ok e adesso ho la seta come stai andando tu? ho fatto la seta bene molto bene ora che abbiamo la seta posso fare il letto ah cinque cinque me l'hai già detto adesso non so se il multiplayer si sono cinque Daniel levati dalle sua ma c'era oh Simone prova a cliccare sul letto che ho appena messo nella stanza sopra di te che ti ha detto? spawn point set perfetto adesso quando moriamo torniamo a casetta e vai e vai l'ha fatto tu un litro lì dentro? no praticamente quando avremo un'armatura lo puoi vestire ci mettiamo un uomo ma dimmi tu si è molto carina ma che figo perché ha una certa io ho fatto la cosa per la birra hai fatto la cosa per la birra ma allora direi che abbiamo chiuso si birra io a parte che ecco questo mi ricorda che ho un litro qui accanto questo mi ricorda che io invece ho finito questo mi ricorda che io potrei andare a prendere il vino adesso che ero sul tavolo a pochi metri da me così lontano diventa un geli è così fottutissimamente lontano si vuole scaviamo facciamo il second floor stai c'è gente che mi chiede quando continuiamo a essere in tech quando vuoi carissimo chi è Fabio? eccola Gatlin ciao Gatlin vedi se le sue prestazioni non si limitano al fatto di curare no ma Gatlin è un infermiero no si elimina da un solo quello no si è una busta Gatlin è un'atteria sparisce è più dai ciaigodini ma mia c'è pure scarpe rosse qualcuno la cacci lei non è la benvenuta qui se ne vada se ne vada se ne vada a 30 anni no 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 tot 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 si è sentito assolutamente nulla ha detto che te vede a te tanto c'è già il diesel citando chiaramente i maestri no quanti sono belli sti auto si sti auto gli autobus gli altri che esplodono gli autobus che esplodono gli altri che prendono l'autobus ciao attacca sono claudia c'è lì e anch'io amo vedere gli autobus che esplodono attacca is not pleased attacca is not pleased chris ci scusiamo con tutti i dipendenti dell'atac che sono in ascolto tranne Cristina no con Cristina non ci scusiamo vieto 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 credo favorisca il vieto favorisca il vieto non ce l'ho favoriscarmelo la testa ci ho mancato la testa e allora ti devo da fare la murta e allora io te faccio un culo così la differita di claudia è eccezionale sì sì vabbè claudia te fa da eco ah io sto ancora il differita è fantastico no sì ma con la testa claudia non ma quello è considera che io e simona abbiamo finito terraria e tu ci stai ancora a vedere scava a casa considera che noi abbiamo finito terraria e te stai ancora a giocare a super mario no no io sto ancora a xplit ah prima o poi riuscirò a capire come funziona comunque perché scherzi io vedo xp cioè non vedi terraria no no non vedo terraria ma c'è anche il quadratino accanto con scritto xp no che merda è una merda è una merda si vuole cosa dove ti lochi sto vendendo legname bravissimo perché se vogliamo fare il piano ho un piano e suonerò e io ho un violino mi sto sempre è la terza volta che me lo chiedo però adesso soddisfa la mia curiosità che cazzo stai facendo che sento sta charlando con persone su facebook no no assolutamente no assolutamente ti sta leccando il gomito ah ma quella non è una questa che dobbiamo fare i vestiti è quella di almeno un'ora fa no che è confusione nella vita è confusione mentale solo è la busta del golden virginia ah cioè la busta del golden virginia fa quell'effetto no sfadocca 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 il tabacco che è già spuso non quello che attocca traudia please un giorno prenderò il tizio che gli ha fatto mettere in testa a simone please e lo ammazzerò di botte ma io credo che questo tizio sia simone no non può farsi venire in testa una botta da solo come fa giustamente giustamente ah però effettivamente si potrebbe mettere in testa a simone ricorda la pennetta da 8 giga ragazzi please io l'ho trovata per terra una da 4 una volta io ho perso una da 8 bravo io ho perduto c'era dentro la traviata la traviata la traviata la traviata c'era vabbè la traviata perché l'infermiera non bocca in casa? perché ha già capito le nostre intenzioni perché lei ha comprato il diploma? forse ha visto l'immagine del...